Gaetano, ci sono ancora tre partite alla fine della stagione, oggi però da parte vostra una vittoria pesante. Sì, siamo contenti perché la Lazio è molto forte, abbiamo ottenuto i tre punti perché li abbiamo voluti sin dal riscaldamento, sin da quando siamo entrati in campo. La cosa importante è che abbiamo fatto vedere che siamo un gruppo unito. Ora dobbiamo affrontare tutte e tre le partite con lo stesso atteggiamento e portarci a casa i più punti possibili. Di fronte stasera c'era anche un avversario di livello, di fronte stasera c'era anche un avversario tosto come la Lazio. Ovviamente la Lazio sta giocando anche un post in Champions, quindi voleva vincere, però ha trovato di fronte a sé una squadra unita, un gruppo che ha un obiettivo, lo stiamo per raggiungere e dobbiamo solo continuare con questo atteggiamento e questa testa. Vittoria che avete voluto e se visto sul campo con carattere, giocando da Fiorentina vera. Sì, ovviamente sin dalla settimana in allenamento abbiamo deciso di voltare pagina, di pensare più al gruppo, perché siamo un gruppo veramente fantastico. Mi spiace solo non essere stati continui, perché ci potevamo togliere delle grandi soddisfazioni. Senti, adesso c'è, dicevamo prima, altre tre gare importanti, la prossima è la sfida contro il Cagliari. Come ho detto prima, dobbiamo affrontare il Cagliari, poi abbiamo anche il Napoli e poi il Crotone, con la stessa mentalità di stasera. Visto il presidente commisso, molto soddisfatto, avete avuto modo di parlare nel dopogara? Beh, se lo merita, siamo contenti anche noi, però come ho detto accantoniamo subito questa partita, perché ce n'è subito un'altra. Vittoria dedicata può darsi al mister, perché è il suo compleanno un giorno fa può darsi? Sì, 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 infatti le abbiamo cantato tanti auguri nuovamente.